benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere come sbloccare dove trovare il fort byte numero 43 si trova esattamente qui guardate ok eccoci qua praticamente noi basta che entriamo guardate e qui c'è il fort byte ok abbiamo preso e abbiamo finito fort byte 43 preso per sbloccarlo bisogna indossare il dorso decorativo mantella banana comunque questo video finisce qua spero che ti sia piaciuto se è così iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fortnite lascia un bel mi piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao